La strada di Bianca arriva dopo una bella vittoria a Lugano, come ti senti anche moralmente? Sì, moralmente sono alle stelle, perché sì, appunto dopo un secondo posto, un primo posto domenica a Lugano vengo qua davvero motivato, con la voglia di far bene, ma non solo io, ma tutta la squadra Un grande inizio di stagione per voi comunque è stato? Sì, sì, un inizio di stagione, a parte la mia vittoria, ma tutta la squadra sta girando davvero in una maniera eccezionale e speriamo di andare avanti così, di migliorare Oggi il meteo, nuvoloso, rischio pioggia, un tempo da colbrelli quasi Sì, oggi vedo che sta già piovendo, sta già, nuvoloso, pioggia, vento e vediamo, non ci facciamo mancare nulla, non ci facciamo mancare oggi